bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spalino.com appuntamento numero 27 della diretta del mercoledì che stavolta è veramente di mercoledì non di giovedì come la settimana scorsa ciao martina poletti buonasera a tutti ok stiamo cercando di capire se si collegherà leonardo biscuola perché è da un quarto d'ora letterale ciao stefano che leo fa tentativi di collegarsi ma non ci riesce né audio né video né niente approvato con tutti i dispositivi possibili immaginabili non riusciamo ad avere leo con noi l'attelata in tre segni speriamo che anche leo biscuola entri segni in questa diretta di stasera con noi siamo agli sgoccioli della stagione ormai ciao anche andrea ciao mattia e ovviamente manca poco anche alla chiusura delle nostre dirette direi perché abbiamo bisogno di prenderci veramente una vacanza fermo restando che forse qualcosina magari di extra lo faremo personalmente ci sto lavorando allora ciao carlo ciao massimo ciao piero solo latte più sì date più ciao barbara ciao paolo ciao mauro ciao roberto veramente ciao a tutti come al solito non molto numerosi mentre aspettiamo leo ciao maurice francesca mentre aspettiamo leo ciao sarah siete troppi ragazzi paolo gianluca veramente abbiamo una community fedelissima nel liverpool gioca con a te mi prendo un po di nostalgia c'è scrive piero si però un conate diverso non è fa che continua a dominare in bulgaria e sta benone la allora una settimana fa discutevamo di chi ha paura dei play out tutti tutti avevamo paura abbiamo avevamo e abbiamo paura dei play out forse oggi ne abbiamo un po meno perché è arrivato il golden punticino che tra l'altro mi sento di dire era isperato perché io stavo guardando la partita quando ho visto il gol del breccio ho detto vabbè è buona io sono uscita come sei uscita sei uscita da dove ero a vederla in un bar sono uscita ho detto vabbè non hai visto il gol di latte no alla fine l'ho visto perché mi sono messo in un posto tattico con la finestra davanti alla tv quindi facciamo un po capolino ogni tanto ok ti è andata bene insomma ci dice leo non serve più perché lo stadio è finito lo riprendiamo solo se lavorano la tribù leo è il protagonista di una meravigliosa diretta e quando avevamo ancora valentina brunetti nella nostra nostra nostro organico ciao vale che abbiamo fatto attorno allo stadio col cantiere per due isperato e meritato scrive paolo sino ma infatti volevo arrivare lì nel senso che golden punticino perché uno comunque la spalla meritava per la prestazione che ha fatto perché comunque brescia non mi è sembrato niente di trascendentale squadra forte ok però non aveva creato chissà quali pericoli e poi perché comunque l'atteggiamento le distanze la concentrazione erano giuste eh e c'erano tutti i presupposti per per fare una bella prestazione che poi tutto sommato c'è stata e mi sento di dire che al netto dei soliti scunza mnestra che non mancano mai eh mi sembra che sia stata apprezzata dal pubblico attenzione c'è qualcuno che mi ha beccata nella mia uscita si tengono d'occhio si tengono d'occhio vabbè quando uno è nervoso fuma c'è un tabaccone come te eh c'era prima di di andare avanti c'era Elena no scusate Sara che ci proponeva di fare un aperitivo in diretta per l'ultimo mercoledì quindi io sono sempre a sostegno eh facciamo l'aperitivo e colletta per la punta e no vabbè eh sarebbe bello fare un evento un evento live potremmo pensarci in effetti brava Sara ragazzi della proposta una volta l'abbiamo fatto per una chiusura del mercato non è venuto nessuno cioè tipo forse uno cioè fu piuttosto triste ma non eravamo ancora lanciati quelle dirette Leo sta provando a collegarsi eh ma io non riesco a capire che problemi abbia l'uomo no attenzione eccolo qua sì ma è tipo con la 56k però è collegato dagli anni 90 Leo nulla mi toglie dalla testa che tu hai problemi di connessione eh in realtà sono con i dati adesso quindi è ancora peggio dobbiamo fare un esplazzo lì il feed video e ti teniamo audio niente non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare e questi sono i potenti mezzi dello spallino.com e allora facciamo delle considerazioni golden punticino eh grazie a eh leo in GPRS Proprio chiaramente faremo un'ora alle spese di Leo biscuola e dei suoi problemi di comunicazione senza mai parlare di spall ehm è vero anche che quando facciamo le giornate le dirette un po' spensierate così vuol dire che dai non è stato un weekend di calcio così brosse Però le cose le cose da dire ci sono in realtà partiamo da una cosa doppio latte al 94 perché l'Atelat al di là del fatto che ha risolto ancora una volta una partita che sembrava persa al 94 Polly hai letto le dichiarazioni del suo procuratore? No, devo dire che non le ho lette Ah ok, perché ho resettato il modem e mi sono collegato con il dispositivo che ho in casa non solo le dichiarazioni del procuratore di Atelat sono quelle di Leo Allora, le dichiarazioni del procuratore di Atelat mi hanno un attimo colpito Allora, te le espongo noi discutiamo anche con la nostra community praticamente il suo procuratore Mattias Veneroso che non so chi sia veramente ha detto ha trovato poco spazio sì, perché ha risentito dal punto di vista fisico dell'infortunio di novembre non so perché non venga impiegato con continuità magari il mister ritiene che sia più utile la partita in corso ma certamente un giocatore che per dare il meglio di sé ha bisogno di continuità tradotto, insomma, questo qua deve giocare perché non necessariamente perché è un suo assistito ma perché evidentemente è il tipo di giocatore che ha bisogno di giocare sempre quale sia il giocatore che non ha bisogno di giocare sempre non so quale sia grazie ai gol di Emanuel la spalla è ancora viva ok, prendiamo atto se posso dire che io era da un po' che non vedevo un giocatore che alla spalla entrasse a partita in corso e risolvesse delle situazioni così con un bracciere ardente quando riusciva ma sì, ho capito però Rossi è già il fenomeno Latte Latte si sta parlando comunque di un giocatore che è arrivato quest'anno un po' in sordina non si sapeva bene chi fosse beh, veniva da un campio a PC fatto bene, dai sì, però anche Dorasi le premesse tra un Rossi e un Latte Latte secondo me erano decisamente diverse oh, 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 oh così ok ciao a tutti grande Leo grande Leo sei stato preso per il culo da tutti quelli che hanno commentato finora praticamente noi partiamo aspettate perché non ho ancora detto che io riesco a farla diretta quindi hai stabilito cosa è successo? no, io non ho fatto un cazzo adesso vanno va bene ok comunque ti metto un paio di commenti uno Leo in GPRS l'altro Leo sta guardando in streaming il Bologna poi Carlo dice vogliamo sentire il rumore del modem Leo salutami Martin McFly quando lo vedi passare io penso sapete già che io vedevo le robe in arabo quindi credo che ci sia una sorta di attacco sulla mia casa quindi che a Santa Maria Maddalena c'è qualcosa che non quadra con internet penso proprio di sì diceva Latte comunque è la casa nuova no, stiamo parlando di Latte e del fatto che Leo non so se hai letto le dichiarazioni del procuratore di oggi che dice eh ma deve giocare di più e non capisco perché l'anatone non lo fa giocare eh, neanche noi no, nel senso che dai adesso non so se l'abbiate già detto però le scelte di Venturato non l'abbiamo già detto puoi scatenarti finché vuoi dai eh niente cioè che insomma penso che sia anche un po' il pensiero di tutti adesso non conosciamo quello di Tacopina perché non era fisicamente lì e probabilmente non è neanche il momento giusto per dirlo però obiettivamente alcune scelte di Venturato non è che abbiano convinto dall'inizio non sto parlando di Latte-Latte perché non era scontato che entrasse e segnasse quindi quello cioè so è facile da dire però insomma tutto il resto diciamo che se Venturato sembrava avesse dato un'identità una una sicurezza diversa a questa squadra adesso mi sembra che abbia non dico perso la brocca perché è eccessivo però che non abbia più più le idee così chiare come prima vabbè lei è arrivato in gran spolvere direi stasera sì stavo dicendo prima che tu ti intrammettessi brutalmente esatto fine della mia riflessione che sì evidentemente la scelta di non metterlo sempre da toccare da titolare anzi di non metterlo quasi mai da toccare da titolare sicuramente è una questione di prudenza e boh a livello fisico magari 90 minuti non li tiene da pensare quello però è uno che comunque riesce a dare una certa garanzia di solidità quando entra che e poi la butta dentro esatto cioè che non è un problema secondario in questa squadra no no è proprio Leo dice buzzo che secondo lui c'è la McDonald's ma magari la McDonald's secondo me è una connessione migliore che la Santa Maria però scusate al di là del fatto che ci segnalano che Grassi era uno che ho già letto fare segna no ma voglio collegare al discorso Latte Latte è entrato al settantesimo della partita di lunedì al posto di Finotto e allora anche oggi ho avuto una discussione su Finotto Finotto è un incompreso perché chi sostiene la causa di Finotto dice ma si è fatto un culo come una capanna a pressare i difensori del Brescia quando manovravano e ha fatto bene il suo lavoro anche se non ha controllato un pallone ha sbagliato tutti i passaggi non ha mai tirato in porta vi comincio questa tesi? poco a dire la verità poco però no nel senso adesso non sappiamo noi non eravamo in uno spogliatoio non sappiamo che compiti avesse dato Venturato a Finotto ok ma mettiamo che il compito assegnato da Venturato a Finotto fosse effettivamente stato ok rincori tutti quelli del Brescia rompigli le balle non fargli fare il passaggio facile e se fai questo per me sei a posto gli avresti dato 6 sapendo che questo era il piano partita se questo è quello che l'allenatore in quel momento gli ha chiesto di fare sicuramente la prestazione non era così negativa il problema è che dubito che sia quello che gli abbia chiesto di fare Venturato anche perché se noi guardiamo il parco non il parco attaccanti le scelte in attacco della SPAL c'erano Rossi che ha delle caratteristiche totalmente diverse e Finotto che era l'unico che poteva garantire un po' di corsa quindi è chiaro che la quota parte di corsa e di pressing spettava a Finotto e su questo siamo tutti d'accordo però il problema è che Finotto in quella partita lì non ne ha preso una poi noi a Mattia vogliamo bene nel senso è in quell'Olimpo di giocatori che ci ha fatto sognare cose che non pensavamo neanche di poter vedere a Ferrara quindi sicuramente non ci può essere un accanimento nei suoi confronti come ho letto da qualche parte come ogni partita si guarda quello che fanno singolarmente in quella circostanza lì e lo si valuta non si può dire che Finotto abbia giocato bene adesso non so Orla se tu hai le statistiche sotto mano sono state pubblicate anche sullo spallino ieri che dice che non crede che il compito di Finotto possa sbagliare sui passaggi sono tanto d'accordo anch'io con te direi che possiamo lasciare i numeri che ho pubblicato ieri erano 69 minuti di gioco 4 palloni ricevuti dai compagni 4 palloni toccati in area 0 dribbling un tiro rispinto 82% di precisione nei passaggi quindi non li ha sbagliati tutti anzi ne ha fatto la maggior parte un passaggio per il tiro di un compagno 36% di due le difensive vinti 11 palle perse 0 recuperate però insomma se butto davanti 4 palloni e lui in qualche modo ne perde 11 insomma direi che qualcosa che non quadra c'è al netto del sacrificio che lui può aver fatto in fase difensiva adesso non staremo qua a mezz'ora a parlare di Finotto come abbiamo parlato a mezz'ora di Esposito 3 settimane fa però insomma non riesco mai a capire dove si fermi la nostra stupidità e dove cominci come dire una visione quasi onirica del calcio vabbè comunque ma non credo sia questione di stupidità oppure di visione onirica cioè il calcio alla fine ognuno ha delle percezioni diverse da quello che succede in campo quindi ci sta a avere anche delle visioni diametralmente opposte Paolo Bianconi scrive Finotto fa tenerezza sembro io quando volevo giocare a tennis ma ho capito che non era il mio sport anche io Paolo ho gli stessi problemi con il tennis però sicuramente allora Finotto viene da un periodo anche di problemi fisici insomma è stato fuori un bel po' mi viene da pensare che un giocatore con le sue caratteristiche fisiche un giocatore che ama appunto correre che ha molta potenza non sia nelle condizioni giuste insomma per far vedere quello che è in grado di fare insomma poi dopo lì Leo dicevi tu interveni all'allenatore se lo valuta adeguato ok l'attore lo vede noi no quindi va bene però insomma secondo me la prestazione rimane insufficiente Finotto è tornato che era mezza rotto ma le visite a Ferrara chi le fa il veterinario ma no dai Roberto non è così non era mezza rotto era Reduce da un lungo periodo di inattività quello sì perché si era rotto il crociato l'anno scorso però quando è tornato era integro infatti le prime quattro partite con Venturato se non ricordo male le ha giocate a Torale le ha giocate tutte non ha avuto problemi si è fatto male dopo ma era un infortunio guarda al proposito tra l'altro scusa Leo c'era Luca che diceva che Finotto è stato voluto d'avventurato in effetti anche questo mi sembra una cosa che è stata detta svariate volte comunque c'è stato un avvallo sostanziale possiamo prendere Finotto ti va bene gli hai detto sì va bene ok allora prendiamo Finotto vai Perle esatto no dicevo che oggi tra i vari commenti non credo neanche sulla nostra pagina Facebook leggevo un commento simile a quello che avete letto voi prima relativamente agli infortuni ossia che in buona sostanza considerando che la spalla ha preso dei giocatori che sono non sono integri fisicamente ci sono delle persone incompetenti nello staff medico ad esempio Rossi perché si è rotto ha avuto una distorsione sul termine tecnico non lo ricordo precisamente però comunque qualcosa che è un trauma distorsivo al ginocchio sinistro qualcosa che comunque è abbastanza pesante anche per la sua età però questo non significa che alla spalla non sapessero della storia degli infortuni di Rossi oppure che fossero ecco semplicemente quando gli abbiamo chiesto anche insomma in via informale il motivo abbiamo provato a capire ci è stato comunque spiegato e l'abbiamo spiegato noi a nostra volta anche al tempo insomma anche forse in queste dirette che non c'era nulla da perdere se Rossi fosse andato avesse fatto i gol pesanti che poi occhio perché quei gol pesanti alla fine li ha fatti perché senza i gol dei Rossi parliamone saremmo messi male ecco e invece se qualora si fosse rotto insomma la spalla non avrebbe perso niente perché magari gli ha fatto un contratto di cinque anni quindi stesso discorso per finotto hanno provato a prenderlo hanno fatto quello che hanno potuto con anche i soldi a disposizione nel mercato invernale quello c'era insomma si sapeva scusate ragazzi c'è un commento di Stefano che mi ha uccisa tra Pinotto e Pinotto in campo c'era Pinotto allora c'è Luca che ci chiede qualcuno ha capito perché Melchiorri ha giocato così poco non ce la fa più ma mi pareva che Venturato ne avesse parlato nel post partita del cambio avesse spiegato che Melchiorri viene da un periodo di forma fisica non così buono adesso vado a ricontrollare cosa ha detto però posso dire che nelle sue dichiarazioni comunque non io non sono rimasto pienamente convinto cioè perlomeno a me avendo anche visto l'intervista sentito più che altro l'intervista non mi ha lasciato così tanto convinto la sua spiegazione sì il fatto che Melchiorri venisse da un periodo così lo si sapeva anche prima d'altronde non era nei suoi piani farlo giocare è subentrato stiamo dicendo che non ha neanche 45 minuti nelle gambe non lo so evidentemente evidentemente no oppure era l'alternativa a se stesso perché una volta che si fa male Rossi una volta che hai messo la terat una volta che hai Colombo che entra e si dimentica l'uomo sull'azione del gol degli altri non intende che teneremo restano tanti altri quindi si vedete che Venturato ha voluto fare ha voluto fare questo tipo di scelta intanto saluto Ettore Fadiga che ci invita a riconsiderare il nostro elogio a latte latte nel senso che stiamo parlando di un gol su angolo da un metro senza saltare Crocetta l'ha battuto molto bene tra l'altro ma non credo meriti di giocare titolare quindi stroncato con quattro righe ciao Ettore che tra l'altro era con me domenica a vedere la partita quindi avete già condiviso queste riflessioni però qualcuno prima segnalava in un commento che l'Atelat quando ha giocato all'inizio non è che abbia fatto chissà che e quindi può anche essere il tipo di giocatore che veramente ha bisogno degli ultimi 20 minuti per scatenarsi e magari approfittare anche un po' della stanchezza altrui sì anche perché quando entra ha uno strapotere fisico mi ricordo quando nella precedente partita ha quasi adattato un avversario da terra in uno scontro cosa che ha fatto anche nell'ultima partita si vede che quando entra è dinamite pura quindi è chiaro che se va a battagliare contro degli avversari che magari sono sportellati per 70 minuti lui ne ha di più da mettere sul piatto poi non c'entra nulla perché il gol non è che l'ha fatto come la precedente partita in contropiede che ha stato tutti lì ha fatto un colpo di testa come diceva Ettore che tra l'altro invitiamo al calcetto di redazione visto che ce ne mancano due è vero è vero sì ma guarda che Ettore cioè è troppo sopra il nostro livello sì infatti stavo per dirvelo ragazzi stavo per tenere noi lo invitiamo vabbè ok va bene e allora scusate sabato abbiamo assistito alla sparizione di Vido nel senso che non ha fatto neanche un minuto però scusate sabato lunedì sabato questo mancherà manco per squalifica Rossi mi sa che ormai per quest'anno è andato chi gioca davanti perché abbiamo visto che finotto insomma bene ma non benissimo non ci ha dato delle garantie ok Latte Latte si candida per una maglia titolare vediamo Melchiorri Vido Melchiorri Vido Colombo chi gioca a tre quarti metterà Dorazzi o metterà Crociata c'è un sacco di interrogativi ma secondo me non più di tanto alla fine perché io penso che Crociata dia qualche garanzia in più di Dorazio perlomeno per quello che abbiamo visto e mi ricordo 45 minuti di Dorazio terribili al mazzo non mi ricordo contro chi però veramente ci chiedevamo quale fosse la sua dimensione sì credo credo fosse una partita casalinga puntualmente persa forse con la Cremonese non so non mi ricordo comunque non importa sì con la Cremonese con la Cremonese ok e davanti credo che qualora Melchiorri stesse bene insomma è difficile pensare che non possa giocare lui e sicuramente Vido perché il Colombo che abbiamo visto anche in pochi minuti va bene quindi possiamo trarre grandi conclusioni dell'ultima partita però se lo sommiamo alle precedenti 15 partite sì possiamo pensare che non è in condizione quindi penso che giocheranno Melchiorri Vido quindi tu e anche la Pollist del partito Colombo basta così hai avuto tutte le occasioni del mondo io gli ho dato anche un importante lunedì se possiamo ricordarlo io gli ho dato anche il riscatto ragazzi però tu l'hai anche bruciato tu sei il responsabile di questa situazione diciamolo ne riparleremo insieme ai suoi legali eventualmente comunque direi che comunque stiamo andando bene con i pronostici perché per Brescia la Polli aveva pronosticato Colombo io Alfonso non ha giocato e Leo no scusa Leo Alfonso Alfonso e non ha giocato e io Melchiorri che ha fatto mezz'ora e poi è stato tirato giù Melchiorri che è stato sostituito dopo essere assumentato complimenti complimenti a noi al nostro occhio veramente meno male che non siamo gli allenatori io comunque devo solo sfangare questa partita qua per essere aritmeticamente campione quindi vediamo cosa succede ok quindi sto guardando un po' di commenti Crociata a Vito Melchiorri Crociata a tre quarti Vito Vito e Colombo tra tre quarti Pinato no ma Pinato se gioca gioca a mezz'ora a sinistra non lo mette tre quarti che comunque Pinato così male nell'ultima partita non è che abbia fatto io continuo a sostenere questa tesi perché al di là del fatto che ha rischiato di farsi l'autogol calciando addosso aiutatemi non mi viene il nome a Meccariello a Meccariello grazie Meccariello tutto quello che puoi fare è tipo tirare una cannonata a casaccio in direzione di quattro uomini nell'area piccola no però in realtà ha anche fatto in realtà ok ha tirato quella cannonata ha beccato Meccariello andava fuori sì la palla non beccava la testa di Meccariello andava a finire in tribuna e gli si dava mezzo voto in più perché aveva salvato è vero ok però se andava dentro cosa avremmo detto di Pinato vabbè se andava dentro era una delle pirlate che vediamo tipo mai dire gol cioè però per me quello diventava veramente l'epitome del farsi gol da soli però siccome Pinato ha fatto bene ha fatto anche l'assist a Rossi poi ha recuperato i versi io tutti i commenti negativi su Pinato io non li ho veramente capiti nelle percenti di partite sì però nell'ultima secondo me no ci viene chiesto da un commento di parlare di Meccariello esatto magari per una partita ha messo più cattività di Vicari in tutta la stagione allora credo sia facile sparare sulla croce rossa Vicari e esagerare quindi eviterei però dice che Pinato è l'entrista e il betrista è la rossa sì sono gli attestati di stima per finire allora posso dire una cosa però Pinato io me lo ricordo anche quando giocavo a Venezia per esempio qualche anno fa era un giocatore un pochino più dinamico che faceva meno pasticci invece qua alla spalla non so cosa gli stia succedendo ma non è più quello che mi ricordava comunque giocando in una squadra dove gira tutto no anzi quindi evidentemente fa fatica anche lui a spiccare comunque parliamo un attimo di Meccariello direi che se c'è uno che deve avere il posto fisso in difesa è lui assieme a Dickman poi a sinistra c'è Celia che è l'alternativa di se stesso perché Tripaldelli nel giorno di ritorno ha giocato penso quattro volte e l'altro è Capradossi nel senso che questo mi sembra l'assetto titolare di Venturato cioè mi ritroverei a essere molto sorpreso se uno tra Meccariello e Capradossi rimanesse seduto sabato tra l'altro vedo che credo che i nostri lettori è comunque una prospettiva vertiera scusa dici Leo perché ho un po' di ritardo nel video anche e dicevo che vedo che i nostri lettori continuano a scrivere di Pinotto quindi cioè io sono sicuro che mi sbaglierò prima o poi è una visione meravigliosa esatto c'è Piero attenzione che dice che secondo lui Colombo sabato si farà perdonare il girone di ritorno da incubo oh ma magari io non me lo gioco ci provo sto giro non me lo gioco vediamo come va non te lo giochi va bene dopo alla fine vediamo come fare dicevo la difesa mi sembra quella cioè ma Pellapui ha salutato prima Pellapui no c'è anche Pellapui collegato sì sì ha commentato mentre tu eri ancora in panne eccolo qua guarda dite a Leo che stasera ci sono quindi ha saputo che la settimana scorsa l'hai invocato esatto esatto no dicevo abbiamo possibilità di vedervi creditorare davvero sabato no non credo cioè tornando a quel discorso che faceva Leo prima delle scelte di Venturato che spesso sono indecifrabili ma c'è anche Federico che dice che Venturato risparmierà Meccarello per l'ultimo Benevento no non credo che a questo punto si possa fare un gioco a risparmio no non puoi fare un gioco a risparmio anche perché devi provare a vincere a tutti i costi questa partita a questo momento qui non mi sembra proprio che sia il caso di speculare come direbbe Clotet su scelte di formazione cioè Pullman davanti alla porta e si prova a fare gol ma se arrivate a questo punto è per dire è per dire però non mi sembra il caso di fargli schizzinosi in questo momento qualunque cosa avviene si fa su e basta c'è una salvezza da conquistare ad ogni modo Allora arriva una domanda sulle diffide non sulle diffide dei tifosi che purtroppo però sono tante pure quelle ma sulle diffide dei giocatori allora come diceva Rino Tommasi sul mio personale cartellino ci sono Crociata Meccariello Zanellato Vido e Tripaldelli squalificati da Riva e Mancosu anche a centrocampo ci sarà da fare del lavoro beh beh no il centrocampo è quello dai e metterà Zanellato Esposito uno tra muore Pinato e uno tra Crociata e Dorazio non è che ce ne siano tanti altri veramente abbiamo il dubbio se giochi Crociata o Dorazio scusa nelle tre volte in cui Mancosu è mancato ha giocato Dorazio e quindi sì però l'ultima volta che ha giocato Dorazio penso che non abbia preso un voto superiore al 5 ovviamente le persone che l'hanno valutato noi compresi e quella prima non è che ci era andato tanto lontano Crociata per carità non sarà una prima scelta guarda io non solo ti dico che farà giocare Dorazio titolare ma mi gioco anche lui nel nostro giochino idiota allora io mi gioco Crociata la sentenza perfetto abbiamo trovato il modo di risolverla così guarda allora Leo Crociata e così buttiamo altri due voti ormai siamo a fine stagione giuro che se Vicari e Dorazio il titolare invado cioè invado in un sciopero non scrivo più e ve lo dico ok ma a proposito di questo quanti seremo un sabato al Mazza perché anche oggi l'ufficio stampa ci ha chiesto di enfatizzare il fatto che ci sono i biglietti a 5 euro 5 euro in curva est e in curva ovest e tutta la gradinata tranne la gold ma fino ad oggi ci sono solo le vendite su prelazione per i tesserati quindi è da domani che aprono quelle domani da libera no? esatto sì tra domani e venerdì prevenita libera con bietti a 5 euro sì giusto brava bella iniziativa comunque anche perché 5 euro per la curva est ovest è gradinata insomma in una partita tra l'altro dove la spalla qualcosina si gioca sì sarebbe bello vedere uno stadio pieno Stefano non è d'accordo però Stefano dice saremo sempre gli stessi al Mazza purtroppo non è che non sia d'accordo è un po' più fatalista diciamo quindi Stefano non crede che ci sarà un chissà quale afflusso di pubblico rispetto alla norma voi cosa ne pensate invece? ma secondo me un po' sì ma anche secondo me dai l'ultima in casa ci si gioca molto cioè alla fine il pubblico della spalla ha sempre risposto presente in momenti più momenti meno la squadra quest'anno non ha fatto nulla per invogliare le persone ad andare allo stadio noi compresi quindi è comprensibile che insomma la media spettatori fosse un po' bassa i dati ufficiali dicono che la spalla quest'anno ha fatto 3936 spettatori in casa e decima nel ranking della serie B beh per quello che si è visto per la stagione nella quale hai fatto il record di partite perse in casa 3.900 diciamo quasi 4.000 spettatori è tanta roba per quello che si è visto Paolo dice neanche 5.000 perché il record stagionale venne fatto a novembre a inizio novembre con Perugia 5.100 più di recente se andiamo a vedere per esempio col Crotone ce n'erano 4.110 con la Cremonese si è sfiorati 5.000 col Cosenza 4.300 poi è vero che le collocazioni orarie dei giorni non è che abbiano aiutato tantissimo sabato pomeriggio che caspita avete da fare dai poi giorno dopo è giorno dopo il primo maggio sì quindi va beh pensavo un altro un altro weekend col lunedì dentro magari ci stavo sperando no io in realtà devo dire che sono stata in difficoltà in queste settimane perché anche oggi mi ero dimenticata che era mercoledì quindi è domani giovedì e dobbiamo fare il pranzo quindi 5.000 e se va bene e tanti saluti dice Stefano siamo siamo pochi no aspetta non ho chi l'ha detto sì sì dice che per la B siamo pochini ma se confrontiamo i dati con quelli della B probabilmente dell'ultima stagione in B sono sicuramente meno se non io ricordo di file di vabbè però era una situazione diversa stavi lottando stavi lottando per cose sicuramente diverse anche la configurazione dello stadio era diversa no però dai che non c'era meno gente non c'era la est insomma della cardinata era quella che era il punto è se andiamo a fare un confronto un po' così tanto per gioco Vicenza c'è una media di 4600 in casa stanno retrocedendo malissimo per dire sì è vero e con chi è ora che ne parlavamo su uno dei 100 gruppi che abbiamo in comune delle presenze nello stadio del Venezia che erano comunque piuttosto basse quattro gatti a vedere il Venezia c'è Andrea Buzzo che dà una sua chiave di lettura che dice che tra la pay tv e l'ipertosano la gente non viene quindi comunque vorrei sapere chi è la gente che va volontariamente al tosano il sabato pomeriggio sapendo cosa ci può trovarla dentro se l'inferno esiste e io ci andrò sarà fatto come l'ipertosano di sabato pomeriggio con quelle carte che sparano reggaeton a questo volume e i bambini che ti stussano mentre tu provi ad andare avanti col carrello questo è l'inferno secondo me per parlare di questo dovremmo fare una diretta a parte dal tosano ci mettiamo fuori dal tosano e facciamo una diretta ecco facciamo una racconta la tradizione la tradizione la tradizione quando la spalla raggiunge i suoi obiettivi ammesso che la faccia dobbiamo fare una diretta così a caso forse l'abbiamo fatta con Eros sulla pesca no? ah la grande in un negozio di pesca con Mazzo grande diretta che prima ha anche scritto non l'abbiamo letto è vero è vero perché lui si paragonava a me carriera mi ricorda un tale Mazzoni del Portamare nel 85 poi ho passato un po' il tempo ma purtroppo il 85 è l'anno in cui sono nato se vuoi sentirti vecchio manco morta il Tosano è di salto va là che c'è qualcuno che è d'accordo comunque dai speriamo speriamo davvero che questa cosa dei biglietti di 5 euro invogli un po' di gente magari una bella giornata di sole la birra e la compagnia e magari la Spal fa due gol tra l'altro vorrei dire una cosa scusate ragazzi perché questa diretta di stasera secondo me non è molto interessante perché non dobbiamo parlare male di nessuno però vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo che io avevo mandato non uno ma due inviti per un ospite a questa diretta uno era un invito a Tommy Silvestri che tutti ricorderete difensore centrale che congratulazioni a lui è stato appena promosso in B col Modena quindi l'ho sentito per congratularmi ovviamente del risultato tanto ha fatto anche gol nell'ultima partita e gli ho detto dai vieni in diretta da noi così ci racconti un po' come sarà sta B facciamo il derby e questo e staltro lui era felicissimo di partecipare ma l'ufficio stampa del Modena ha detto no vabbè pazienza e l'altro che avevamo invitato è il responsabile del settore giovanile della spalla Andrea Catellani che però ha declinato l'invito ha detto che semmai parteciperà più avanti non volevamo mettere il dito nella piega sul discorso della primavera che tra l'altro nello scorso weekend ha retrocesso aritmeticamente ma anzi volevamo dire ok la primavera è retrocesso ha fatto schifo però tutte le altre squadrine del settore giovanile stanno andando bene e quindi magari parliamo anche di quelle visto che colpevolmente non lo facciamo mai però insomma lui ci ha detto che sarebbe venuto più avanti è stato bagnato e stiamo ancora aspettando da tre anni però magari noi ci contiamo ancora quindi Davide se ci stai guardando ogni tanto ci sbircia in diretta quindi Davide lo dico se l'avremmo promesso che sarebbe venuto la stima no perché c'è Atalanta-Torino il recupero di Serie A tra l'altro il Torino sta vincendo 4-3 a Bergamo non credo ci stia guardando in questo è veramente tanto di cappello mentre è lì allo stadio facciamo i complimenti anche a Poluzzi il portiere meno battuto e promosso in B certo Jack altra bella persona tra l'altro Jack Poluzzi perché ricordo di averci avuto che fare veramente un ragazzo molto serio molto coscienzioso quindi grande complimenti anche a lui così come complimenti a Mirko Antenucci che ritroveremo il prossimo anno col Bari a meno che la città di cambiare forse a un anno di contratto no 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 non era per Antenucci sì perché io parto dall'assunto che la Spalini è il prossimo anno dai no dai io non voglio io non voglio davvero pensare a no non dire non dire non dire come a gennaio Tacopina disse pubblicamente non mi sentirete mai pronunciare la parola salvezza io non pronuncerò mai un'altra parola faccio come Sovrani che Sovrani fa sempre così dice no io non dirò niente però Antenucci insomma forse che gufata dice Sara ma perché te l'ho detto te l'ho detto che sei come se le sente no non sono le sentenze però se parto dall'assunto che a Brescia è stata fatta la buona prestazione la Spal concentrata deve chiudere la pratica qualcuno dietro magari uno scivolone lo farà perché qualcosa mi dice che il Pisa se vuole provare a tirar fuori da questo campionato il Cosenza lo deve annientare e il Parma e il Parma non lo so cosa farà con l'Alessandria però mi viene da pensare l'ultima partita in casa della stagione impegnati un po' è vero che il Parma ha perso tre partite di fila però non posso fare così schifo quindi va bene devo parlare di Antenuti solo per dire che non vedo l'ora che prossima non si giochi Bari Spal in Serie B ovviamente e che Leo venga chiamato alle 6 della mattina dalle radio di Bari che fanno i programmi del Early Morning è stata l'intervista più bella della mia vita dal fiumone in pieno inverno alle 6 della mattina ma io mi chiedevo ma chi è che a Bari guarda mi sta ascoltando alle 6 della mattina quella che va a lavorare presto tenendo la radio c'è stata una più bella e tu lo sai quale? quello del benvenuto sì è una cosa che io e Leo ci ripetiamo sempre perché ricordiamo una volta in cui Leo ha fatto un'intervista un'intervista cos'era un radio e gli dissero benvenuto e lui rispose benvenuti alla schiatarella alla schiatarella benvenuti tutti voi torniamo a una nota un pochino amara Rossi si è fatto male per quest'anno non lo vedremo più che bilancio possiamo fare non solo della sua esperienza ma di tutta questa vicenda che è stata una vicenda abbastanza singolare perché oggi ho fatto un pezzo per dare conto di questa situazione praticamente l'attaccante che ha avuto il miglior rendimento tra minuti giocati è stato un attaccante che è stato preso da taccopina senza alcun tipo di voce in capitolo da parte di direttori sportivi e che veniva ovviamente da anni orribili cioè questo ci dovrebbe dire qualcosa oppure una casualità guarda dobbiamo tornare ancora una volta sull'argomento no ma scusate però dopo uno va a vedere la fine stagione al netto del fatto l'ho fatto perché vuole che io faccia gol Edda ci può dire che ha questa domanda qua no dico solo ecco esatto dico solo questo che quando la settimana scorsa io ho fatto un pensiero che è stato che alla fine il miglior direttore sportivo che ha avuto alla spalla quest'anno è stato e con questo mi taccio può prendere delle che fa l'interim come fa con i governi no dai sto aspettando però è indubbio che da figurina perché tutti tutti quanti tutti quando è stato comprato Rossi è una figurina questo non farà mai nulla è sempre rotto è stato preso perché sa parlare in inglese come come tacopina in realtà fine della stagione tiriamo una riga Igo ha fatto non so quanti gol ha fatto tre tre ha fatto tre gol uno più pesante di quell'altro già beh insomma così male la sua esperienza a Ferrara io non la come dire non la etichetterei cioè no infatti direi che considerate tutte le premesse è andata anche più che bene sì sì è andata oltre ogni previsione cioè direi che è andata oltre ogni aspettativa di tutti e quindi però lo dobbiamo decidere perché non abbiamo ancora avuto contro prova che quella mossa sia stata non sia stata altrettanto brillante di Zucculini beh ma è difficile da dire nel senso che noi possiamo solo parlare per quello che sentiamo per le scelte di altre persone che hanno deciso di non farlo giocare quindi d'altronde se è deciso così avranno i loro motivi noi al campo non ci andiamo io perlomeno orla ci è andato poche volte quest'anno sempre per questo maledetto no non ci andiamo perché è sempre chiuso non è che ci andiamo perché non abbiamo voglia esatto esatto però insomma dobbiamo rimetterci a quello che abbiamo visto in campo in campo quando è entrato ha fatto ha messo le cose che ci hanno detto che avrebbe messo sul campo quindi la grinta e un po' di quella roba lì però insomma alla fine servirebbe anche altro e se non lo fanno giocare un motivo ci sarà oltre alle voci di mercato che lo volevano se dobbiamo fare il gioco se dobbiamo fare il gioco delle certezze come poco tempo fa secondo voi Rossi lo rivediamo a prossima stagione? ma secondo me no ma secondo me secondo te no perché lo lasciano andare o secondo te no perché si ritira? ma secondo me no perché visto come è andato quest'anno che insomma ha fatto dei gol pesanti però per giocare in Serie B serve un'intensità e anche un'integrità fisica che lui ormai non può più avere cioè a me dispiace non credo lo vedremo neanche in C non è questione di categoria credo proprio che insomma sia arrivato dal punto di vista fisico al capolinea purtroppo quindi non lo vedi come dire restare alla SPAL con un ruolo limitato del tipo vabbè dai vieni in panchina se c'è da fare dieci minuti ma stavo pensando per reggiarmi la partita eventualmente una cosa del genere tenerlo come uomo spogliatoio o come dama di compagnia di Gio non so dama di compagnia di Gio è possibile che rimanga magari in società sotto quale forma strana magari si capirà però se tengo con Rossi prima di aver tenuto Sergio mi arrabbio no però beh Rossi è anche lì oltre che per essere un giocatore che insomma ha dalle qualità che nessuno in questa squadra ha e anche e soprattutto un amico di Tacopina quindi non è da escludere che in virtù di questo aspetto qui possa avere possa essere riconfermato per probabilmente uno sport di brogna perché non credo che avrà un minutaggio molto superiore a quello che ha avuto quest'anno l'anno prossimo nel caso in cui dovesse rimanere però insomma non è su Rossi che io farei affidamento per avere il gol no 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 però diciamo con un ruolo non di primo piano secondo me potrebbe ancora avere senso prendi quattro attaccanti quinta e quinta dai rossi insomma o quarta ecco rispondo a Beatrice che dice scusa che vuole l'adesivo l'adesivo sì ci mettiamo d'accordo in qualche modo in realtà ne ho ancora molti in casa quindi potrei anche fare un giveaway per l'aperitivo di chiusura delle dirette esatto venite a trovarci vediamo se no Beatrice scrivi una mail info at lospalino.com in qualche maniera ci mettiamo d'accordo questa cosa dell'aperitivo finale l'ha proposto il tuo spirito guida Sara Guidorsi che da quando hai smesso di seguire lei per i tuoi pronostici non hai più imbroccata a mezza a inizio diretta mentre tu cercavi di collegarti ha detto lei facciamo l'aperitivo di fine stagione del mercoledio quindi potremmo anche farlo una diretta una diretta e di avere una birra con noi e intervenire e dire delle cazzate può farlo cosa potrebbe mai andare storto mi vengono in mente alcune circostanze ma vabbè ne riparleremo e vedremo come andrà va bene avevo una domanda io che mia ignoranza ma quant'anni è Rossi 30 35 compiuto a febbraio non il 18 che non ci sono vabbè Sara adesso non è che compiiamo già sulle date vedremo chiede se l'aperitivo lo facciamo dove ci siamo visti lunedì va bene ne parleremo i riferimenti privati adesso basta finché non decidiamo non diamo notizie io e lui ci sento qui e poi ci veniamo intanto Mauro ci segnala diciamo tanto di Tiam andate a vedere Radu portiere dell'Inter questo mi fa pensare che l'Inter abbia preso gol infatti l'ha preso bene ma Tiam c'eravamo ripromessi di non parlarne troppo però andiamo in chiusura con questo argomento Tiam perché prima o poi qualcuno aveva commentato chi gioca sabato importa anche questo è vero voglio dire due cose su Tiam la prima che anche sabato come nella partita precedente buona prestazione non ha sbagliato nulla ok i rinvii vogliamo parlare dei rinvii ma non mi pare che i rinvii di Alfonso siano tanto meglio comunque però solido cioè portiere chiamato in causa fa quello che deve fare non ha fatto parate impossibili bene nel post partita chiedono a Venturato come mai Tiam e lui dice eh vabbè Alfonso non stava bene quindi mi fa giocare a Tiam allora abbiamo capito tutti che Venturato non è un maestro della comunicazione però cioè non lo so mi sarei aspettato che dice se ha giocato a Tiam perché Alfonso non stava bene ed è stato bravo o si è fatto trovare pronto no cioè il messaggio che è passato è detto oh e non ne avevo altri ho giocato qua non è bello dai non credo che sia molto incoraggente ragazzo dai io invece vorrei mettere un po' di pepe vi chiedo vi chiedo a voi due ma fino a 4-5 dirette fa tutti noi tutti tutti e tre dicevamo che Venturato l'anno prossimo non c'erano dubbi sul fatto che fosse nella panchina della spalla perché era stato preso per fare quest'anno in transizione e tutte le robe che sappiamo arrivati a questo punto quanto vi sentite sicuri che Venturato possa essere ancora se lo spalla si salva al 100% tu Polly? sì lo voglio non so io non sono non so così sicuro cioè non sono più lo scenario cosa? lo scenario è quindi tu mi stai dicendo la spalla si salva ok e cosa fanno? dicono avete trovato va bene ci hai provato come dire ci siamo trovati in un esonero di Clotet a luna di notte senza che ci fosse quasi nessun tipo di preavviso 2 di gennaio non mi ricordo più esatto 2 di gennaio senza preavviso quindi adesso non sarei così stupito ci fossero altri stravolgimenti perché era stato per motivi diversi quello di Clotet però scusa non ce la vedo la SPAL fa una scelta di questo tipo perché ha un allenatore che ovviamente hai preso è stato qua ormai sei mesi tutto quanto non ha fatto granché bene lo dicono i numeri però gli dici ok dai cominciare la stagione facciamo la squadra come Dio comanda facendo il mercato dal giorno 1 senza cominciare a ferragosto con le indicazioni che ci dai tu e tutto quanto lo mettono nelle condizioni di fare il suo lavoro dall'inizio in una certa maniera se poi dopo arrivi a novembre perché sei da una play out e beh per forza sono d'accordo con Orla assolutamente io dico solo che secondo me se prima ero sicuro al 100% che Venturato fosse venuto da spalla anche il prossimo anno secondo me adesso qualche percentuale in meno ce l'ha però vediamo insomma allora vedo che il tema lanciato da Leo raccoglie raccoglie i consensi c'è chi dice non sarei così sicura invece Sara dice sarebbe la dimensazione di non avere un progetto e Daniel dice possibilità che Venturato rimanga meno del 30% oh è poco troverai strano davvero troverai molto strano questo a meno che ripeto a Taccoppina non vada giù la catena e dica buona via tutti via Zamner via Tarantino via Venturato adesso facciamo le cose in maniera diversa allora sì rimane Venturato ma va via giù no spero di no dai anche perché ci troviamo veramente in una situazione orribile quindi meglio di no va bene beh direi che ragazzi direi che chi hai pronosticato eh stavo pensando che dovrei sceglierne uno che mi faccia almeno prendere Leo in questo cocco di giochino perché eh allora provaci intanto il Torino è riuscito a fare 4 a 4 eh cioè quindi Vagnati probabilmente non sono sta guardando la diretta ma sono anche abbastanza infelice in questo momento e gliel'abbiamo tirata anche lì comunque eh Leo guarda che c'è una predizione di Pelapui che io mi sentirei di tenere in considerazione dice ho sognato che cacciano Venturato e prendono Pico in Pai quindi vabbè Pelapui speravo che mi desse un suggerimento se chi può farmi Venturato è nuovo DS ho scritto Polly giocati mancoso e vai tranquilla dai sai cosa Giacomo sai Venturato è nuovo DS sai cosa farà? prenderà solo giocatori importanti eh sì perché per è un termine che gli sta particolarmente a cuore c'è butto che mi suggerisci i tripaldelli raga io ho bisogno no no dai mi vado vado con McJory mi sa che non ho mai giocato rispinava affannosamente lunedì quindi hai deciso di dargli la botta finale va bene no dai la telatta ma la telatta non gioca come la telatta come il che ora la telatta oh eh sto pensando eh bene non puoi stare prossimo e dieci e mezza va bene dai McJory 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 vabbè Polly mettili tutti uno uno lo prendi tutti ormai ecco ecco Mauro mi dice McJory bravo grazie va bene l'importante l'aggettivo del 2022 sì direi direi che sì sicuramente è importante sono le due parole chiave del vocabolario di Roberto Ventura sicuramente sicuramente è importante che noi ci siamo anche mercoledì prossimo saremo reduci da Spalforsinone speriamo tre punti così mettiamo in soffitta tutto e possiamo anche chiudere noi una settimana prima la diretta no non è vero andremo avanti fino alla fine lo stesso e basta grazie a tutti quelli che ci hanno seguito a tutti quelli che hanno commentato siete sempre tantissimi fatichiamo a starvi dietro e grazie a chi ci seguirà indifferita chi vuole gli adesivi a quella punta mandi dei messaggi alla pagina Facebook Instagram allo spallino all'indirizzo mail e tutto quanto ce ne sono ancora ce ne sono ancora tanti anche perché tanto sarà il tema ricordatevi di andare di andare allo stadio esatto compratevi il biglietto a 5 euro andate allo stadio e ci vediamo là domenica per chi non avesse niente da fare vi aspetto anche alla festa del primo maggio contro Rock che vi faccio dare degli adesivi da Alessandro no 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 cos'è stata la pruricità vabbè ragazzi loro l'hanno fatta noi e noi la facciamo loro domani faccio un imbrotto la Clelia perché è capace di essere lei dietro questa mossa va bene no no la Clelia ha fatto il contrario comunque ragazzi non ha fatto il contrario cioè quindi ci odia mi stai dicendo questo? no dai dopo te la spiego meglio ah va bene comunque se non avete niente da fare venite direi di liberare tutti dopo vi chiamate vi spiegate tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao